San Teodoro Il Teodoro venerato oggi era un generale dell'esercito, martirizzato ad Eraclea al tempo di Licinio e sepolto in Turchia. Originario dell'Oriente, era stato trasferito nei quartieri di Amasea, al tempo dell'imperatore Galerio Massimiano. Promulgato un editto col quale si ordinava ai soldati di sacrificare agli dèi, Teodoro si rifiutò. Duramente torturato, fu bruciato vivo intorno al 320. Fu patrono di Venezia, prima di San Marco, fino al secolo XIII. Secondo un'antica tradizione, nel secolo XIII il suo corpo fu trasferito a Brindisi, in un altare della cattedrale. È patrono dell'esercito e protettore dei militari, e viene invocato per guarire i mali della gola.